buona giornata con l'almanacco barbanera oggi è il 7 settembre si ricorda santa regina il nome regina riprende il termine tardo latino regina femminile di rex regis re che significa appunto regina dice il proverbio la misura che userai quella stessa tu riavrai sono nati oggi Dario argento gloria gaynor eva grimaldi il 7 settembre 1533 anna bolena regina d'inghilterra dà alla luce la futura elisabetta prima nel 1911 il poeta francese guillermo apollinaire viene arrestato imprigionato poiché sospettato di aver rubato la monnalisa dal museo del louvre infine il 7 settembre 1996 danny mendez viene eletta miss italia è la prima reginetta di colore ralph waldo hemerson ha detto l'erbaccia è una pianta di cui non sono state ancora scoperte le virtù arrivederci da barbanera dal 1762 l'almanacco più amato d'italia grazie a tutti